La Puglia ha da ieri la sua giunta regionale è stata scelta con una votazione online degli iscritti alle sagre del programma sul modello dell'Isola dei Famosi. Con questa sorta di televoto si poteva scegliere tra dieci nominati, i cinque più suffragati sarebbero diventati assessori, per i successivi tre la possibilità di un ripescaggio, per gli ultimi due l'abbandono dell'Isola, tra la finta commozione della conduttrice Alessia Emiliano Marcuzzi e le lacrime dei parenti. Così è stato. I più votati sono risultati Gianni Giannini, che è diventato assessore ai trasporti e ai lavori pubblici, Raffaele Piemontesi al bilancio, Giovanni Liviano ai beni culturali, Sebastiano Leo alla formazione professionale e Salvatore Negro al benessere sociali e pari opportunità. A questi si sono aggiunte le due esterne, Loredana Capone alle attività economiche e Anna Maria Curcuruto all'urbanistica. A completare la giunta a sorpresa come quei personaggi che all'improvviso arrivano sull'isola, tre assessorati al Movimento 5 Stelle e cioè Rosa Barone all'agricoltura, Antonella Laricchia all'ambiente e Viviana Guarini al personale. La nomina delle tre esponenti grilline è stata accolta come una provocazione. Non ci facciamo comprare è stata la risposta e quindi tre assessorati non verranno accettati. Una mossa prevedibile dato che il Movimento aveva già declinato altre offerte di Alfonso Emiliano Signorini chiedendo invece postazioni di garanzia come la presidenza del Consiglio e quella di commissioni chiave. Simone Emiliano Ventura dovrà quindi nominare altri tre assessori e qui entrano in gioco i ripescaggi che riguarderebbero i piazzati dal sesto all'ottavo posto del televoto quindi Antonio Nunziante, Leonardo Di Gioia e Mimo Santorsola. Resterebbe fuori Filippo Caracciolo della Batte, terzo candidato del PD il cui non opposto apre un caso alle forti critiche dei delusi per le modalità perlomeno curiose con cui si è deciso di scegliere la giunta. Basta leggere le dichiarazioni di Donato Pentassugli e Salvatore Capone, il gelo di Paolo Campo e Michele Bordo e le feroci reazioni all'esclusione di Sergio Blasi si aggiungono le considerazioni su come sia stato relegato al penultimo posto l'esponente della Batte. La domanda è questa. Che senso aveva tutta questa messa in scena se l'ordine di arrivo era già stato prestabilito a tavolino? Il risultato di Caracciolo nella dimostrazione. Ogni votante infatti aveva a disposizione cinque preferenze. Il PD ufficialmente votava in tutta la regione per i suoi tre candidati, il che sta a significare che a voto libero non potevano che piazzarsi ai primi tre posti. Così non è stato il che è la dimostrazione lampante che le indicazioni di voto erano già state date a tavolino secondo una precisa strategia al punto che mentre gli altri due esponenti del PD si sono piazzati ai primi due posti Caracciolo viene superato addirittura da uno dell'Udc e dal candidato di una lista civica come direbbe Totò. Il risultato è che la Batta ad oggi non ha rappresentanza in giunta. L'unica possibilità è un ripescaggio di Mimmo Santorsola al posto di una delle tre grilline. Bella persona Santorsola ottimo professionista e coerente politico ma certamente di un peso politico inferiore a quello che avrebbe avuto Caracciolo. Le possibilità che siano ripescati entrambi sono remote e legate a giochi ad oggi imperscrutabili. Sta di fatto che la nostra provincia è stata ancora una volta snobbata se non tarlupinata. Basti pensare a quanti assessori in pectore abbiamo avuto durante la campagna elettorale al punto che facemmo un servizio parodia nel quale raccontavamo come un po' a tutti Emiliano garantiva che il mio assessore nella Batta sei tu. Persino a Francesco Spina che aveva per questo fatto il salto della quaglia e si vedeva già nell'Olimpo del potere politico regionale nonostante l'elementare evidenza che considerando la legge elettorale gli assessori esterni non potevano che essere donne e ora deve accontentarsi di fare il sindaco di Biceglie, il presidente della Batta, il segretario provinciale dell'Udc e il coordinatore delle liste Emiliano. Ma questa è solo un'altra storia di tragicomiche illusioni di uomini a cui un sedere in più da accomodare non manca mai.